numero 3, 29, 79 dei deputati Ruocco ed altri, concernente iniziative volte a tutelare gli interessi nazionali in ordine alla vicenda del declassamento relativo al debito pubblico italiano operato nel 2012 da agenzie di rating, anche alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Trami. La deputata Carla Ruocco ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie. Vogliamo fare una semplice domanda al Ministro. Dal dispositivo della sentenza del Tribunale di Trami emerge chiaramente che il doppio declassamento che l'Italia e i cittadini italiani hanno subito da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's non doveva essere fatto. Quindi era illegittimo, pertanto questo apre la strada ad un miliardario risarcimento dei danni. Miliardario perché soltanto si parla di 2 miliardi e 600 milioni di euro soltanto per quello che riguarda ciò che incassò la Morgan Stanley che ha a seguito di un derivato che appunto il cui incasso dipendeva proprio anche da quel declassamento. Quindi chiediamo al Governo se vuole finalmente chiedere il risarcimento dei danni a chi di dovere, cioè all'agenzia di rating, oppure vuole continuare a vessare i cittadini italiani con manovre correttive che aumentano il carico fiscale. Grazie. La ringrazio. La parola al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Grazie. Al momento si dispone esclusivamente della sentenza con la quale il Tribunale di Trani ha disposto la soluzione nei confronti di alcuni esponenti dell'agenzia di rating accusati di manipolazione del mercato. Non sono ancora disponibili le motivazioni della sentenza. Una serie giudiziosa tutela degli interessi economici e patrimoniali della Repubblica italiana richiede innanzitutto una conoscenza piena di tutti gli elementi, a cominciare dalla sentenza nella sua integralità, completa di motivazioni, onde poter valutare eventuali richieste di risarcimento fondate su piene ragioni. In mancanza di tali presupposti non può essere presa alcuna iniziativa al riguardo. La lettura delle motivazioni è indispensabile per valutare se emergono elementi nuovi rispetto a quelli apprezzati in passato. Qualora in sede di lettura delle motivazioni emergano elementi nuovi, questi saranno attentamente valutati per decidere in merito alla proposizione di azione civile per danni. Le sentenze di Trani non contiene tutte le motivazioni per cui essendo incompleta non si possono avviare le procedure di rimborsi. Non siamo veramente soddisfatti da questa risposta perché ancora una volta il Governo dice di voler attendere, attendere un risarcimento danni miliardario che ai cittadini italiani spetta. Contemporaneamente in via immediata si chiedono miliardi di euro di sacrifici. Si parla di clausole di salvaguardia all'interno del decreto che introduce la manovra correttiva e che prevede un aumento dell'aliquota dell'IVA ordinaria dal 22 al 25%, rischiando di gettare definitivamente il Paese nel baratro e per i risarcimenti alle agenzie di rating e alle banche d'affari ad esse correlate c'è sempre qualcosa da attendere. Noi non vogliamo più attendere, noi siamo dalla parte dei cittadini. Non ci piace il fatto che un Paese si affondi e contemporaneamente si salvi la pelle, sempre dei soliti noti. Aspettiamo che il Governo si muova immediatamente e continueremo a fare fiato sul collo. Adesso l'ultima scusa sono le motivazioni. Sono anni che chiediamo risarcimento dei danni. Prima si doveva aspettare la sentenza. La sentenza è arrivata. Adesso si devono attendere le motivazioni. Intanto abbiamo avuto l'IMU sulla prima casa, le clausole di salvaguardia che continuano ad incombere, manovre correttive di miliardi di euro, aziende che chiudono per quelle vestazioni ai cittadini non si è mai dovuto attendere neanche un minuto. Siamo molto insoddisfatti di questa risposta. Grazie.